ciao a tutti e bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo su PES 2021 per quanto riguarda la rubrica dei non solo indie desidero ringraziare tutti voi per supportarmi sempre e d'avermi permesso di raggiungere anche questo onore di poter portare PES 2021 mai me lo sarei aspettato allora io ho già giocato PES 2020 che poi non è più PES ma si chiama eFootball ormai e quest'anno ha deciso di uscire non con un capitolo nuovo ma con una sorta di upgrade rispetto alla versione precedente vi do giusto due informazioni e poi andremo a vedere una partita velocemente due informazioni su quello che è effettivamente questo upgrade perché andremo a vedere se effettivamente è cambiato qualcosa a livello di fisica so già che la telecronica non è stata cambiata sono stati messi anche gli europei che erano stati aggiunti anche nella precedente versione 2020 è una versione però stand alone quindi verrà venduta su console sul classico blu ray insomma cd quello che è e su pc è una versione appunto a parte quindi non è che aggiornate la 2020 ma avete la 2021 ma il fatto che sia un upgrade è per dire che loro non hanno rivisto grafiche così hanno magari modificato la fisica l'andiamo a provare insieme e perché dovreste guardare questo video beh per vedere un altro punto di vista oltre a quelle magari delle testate giornalistiche che dire è un non solo indie ovviamente il calcio lo sport nazionale in italia quindi perché non farci un video ovviamente non ci sarà nessuna serie perché ovviamente io sono coerente al mondo indie però quando c'è questi ci sono questi queste opportunità questi onori insomma di portare un grande titolo perché facciamo una partita vabbè le modalità classiche ve le spiego potete giocare in locale in coop con amici incontro in vari campionati o coppe tra l'altro qua avete anche la possibilità di scegliere appunto gli europei e sorte di altre coppe europee insomma a livello di club avete il my club che è una sorta di foot di fifa secondo me molto più intrigante cioè non avete lo spacchettamento ma avete la possibilità di diciamo pescare dei giocatori o ricercare dei giocatori in base alle carte che possedete vi faccio un esempio avete la carta giocatore portoghese avete la carta giocatore attaccante avete la carta giocatore sopra i 35 anni sopra i 34 anni faccio un esempio stupido avete un elenco di giocatori che rispecchiano queste abilità queste caratteristiche e quindi avete la possibilità per dire di trovare cristiano ronaldo e diciamo che spacchettate questa possibilità qui lui combina tutti i giocatori portoghesi tutti quegli attaccanti tutti quelli sopra i 34 anni avete magari la fortuna in fondo schiena di trovare il più forte giocatore del gioco il campionato master che è un vero proprio campionato più stagioni in cui potete essere licenziati assunti dalle varie squadre potete giocare voi per tutta la squadra e o guardarla c'è una sorta di modalità allenatore fate il calcio mercato insomma fate guardare un pochino i conti decidete gli stipendi dei giocatori e la modalità diventa un mito dove voi siete non degli allenatori bensì dei giocatori e vivete tutta l'arco della carriera di un singolo giocatore abbiamo lì football quindi la possibilità di giocare online in cooperativa a fare il match del giorno insomma ma noi andiamo a fare una partita in locale normalissima ci sono delle novità per quanto riguarda le squadre di quest'anno di questo 2021 perché inter milan e real madrid hanno perso le licenze quindi sono passati sotto fifa quindi che cosa succede le troveremo in modo diverso adesso andiamo a vedere giocheremo c'è la serie b la serie a facciamo la serie a vedete che adesso c'è il brescia che l'anno scorso mi pare non ci fosse lombardia n a e milano rn io farei un derby qua poi io sono una persona che si ritiene ampiamente sportiva quindi non voglio nessun giudizio insomma sulle squadre che sceglierò perché ne scegliamo due famose anche per vedere lo stato dell'aggiornamento delle rose perché io ho un tremendissimo dubbio so che un aggiornamento grosso deve uscire questo è stato un po un autogol da parte di konami di alcuni aggiornamenti grossi il 22 di ottobre quindi però vediamo vediamo un attimino le due squadre si va bene abbiamo no abbiamo già abbiamo già abbiamo già la formazione giusta quindi direi che si adesso mi sta spiegando tutto io vado a fare due modifichine in modo da cambiare un pari di giocatori si non è aggiornatissimo l'ultimo con gli ultimi colpi di calcio mercato però insomma facciamo una formazione base direi che manca ho scelto punto l'inter perché ne sono molto informato manca almeno non vedo vidal quindi l'ultimo colpo quindi mettiamo magari un brozovic e direi che facciamo anche una cosa di questo tipo va bene intanto guardiamo anche il milan che ha ribic davanti brahim calanoglu cialanoglu style che si tonali si tonali al giornato gabbia ok vabbè giochiamola così tanto poi potete vedere chi avete in panchina chi avete io voglio dare anche un'opportunità anche a pinamonti questa partita magari adesso andiamo andiamo a giocare e vediamo non sono una cima in questo tipo di giochi ma andiamo a vedere la telecronaca è ovviamente la stessa dello scorso anno quello che voglio verificare è la fisica e il gameplay che cosa hanno cambiato perché io ci ho giocato stamattina con un amico già con vi dicevo il pass 2020 c'erano gli europei li avevano aggiunti che poi non ci sono più stati perché saranno l'anno prossimo e lo stiamo la stiamo giocando in coppa quindi sono esperto nel senso che ho visto un pochino com'è e poi ci ho giocato già diverse sbagliate ore quindi andiamo a provarlo e vediamo un attimino come funziona vi dico subito un'altra delle diciamo modifiche che hanno aggiunto il fatto che quando i giocatori vanno per dare il pallone non non restano lì diciamo a guardare il giocatore che va via ma dovrebbero in teoria andare in seguire il il l'avversario allora quello che sto notando nei primissimi secondi di gioco è il fatto che la fisica quello che è il movimento è stato reso un pochino più pesante e il modo di giocare la velocità di gioco un pochino più lenta che non è malaccio perché in effetti c'erano veramente delle cose leggere proprio si sentiva proprio una leggerezza di gioco cosa che poi per chi se lo domandasse lo identificava questo gioco come superiore a fifa per quanto riguarda l'anno scorso perché fifa bene o male aveva delle criticità che a me non piacevano e ci ho giocato veramente tantissimo ok voglio vederli da vicino come sono fatti se c'è la possibilità diciamo che per quanto riguarda l'intra il milan il real madrid l'anno scorso avevano la licenza di di pesa quindi erano dei club che erano curati dal nome le divise gli sponsor le facce dei giocatori quest'anno queste squadre sono passate a fifa alla concorrenza quindi qua potremmo trovare una cura minore però essendo un upgrade probabilmente le facce sono state tenute e da dire c'è anche che sarà almeno è una mia ipotesi questo un capitolo di transizione perché siamo a cavallo della next gen quindi sicuramente l'anno prossimo sarà un capitolo più innovativo ma di bello c'è il fatto che non è non è un non è male come come gioco anzi il prezzo non è assolutamente male perché l'ho trovata 39 euro scusate sto facendo un po fatica dovrei fare la telecronica della partita in modo da vedere anche come me la cavo nella telecronica dato che quando gioco a football manager mi faccio prendere bene non ho guardato che difficoltà sto giocando ma direi che potrebbe essere anche la mia calcolando che non sto sto vincendo attenzione il pallone in mezzo va verso lui a trovare pronto calabria tiene il pallone la dà in mezzo verso gabbia gabbia allarga verso che si cerchio di centrocampo viene affrontato da brosovic l'allarga a teo hernandez sarà teo hernandez lui se le maker avanza c'è qualcuno davanti perché si che si in aria che si temporeggia la da lato i movimenti sono molto belli devo dire bastoni allontana bastoni allontana lukaku si fa avanti attenzione riparte l'inter con akimi akimi neo acquisto della compagine milanese attenzione avanti verso lukaku lukaku da solo in mezzo potrebbe passarla in mezzo e rete di lautaro martinez risultanze sono bene o male quelle quindi no poi non posso neanche permettermi di urlare qua in casa quindi se no avrei fatto gol va bene dai ma non è male non è male devo dire perché al suo perché questa questa upgrade costa 39 euro sia che abbiate il gioco vecchio che abbiate il gioco nuovo come dice uno stand alone però si sono un po parati il fondo schiena dicendo non è stravolto è la base è quella però è aggiornato migliorato in piccole cose le modalità restano comunque quelle c'è da dire una cosa che io sempre ho apprezzato di questo titolo ma anche quello di due anni fa che rispetto a fifa il gioco sembra meno da sala giochi nel senso che ci sono più impalli ma questo ha portato anche un altro problema del gioco cioè ci sono più impalli ma tante volte erano veramente soprattutto l'online lo avete visto se siete mamma mia ragazzi che gol che gol di eric se vediamo non che in faccia come fatto si direi che lui fatto bene nel senso che online i giocatori andavano si sovrapponevano finivano addosso uno calciava il pallone rimbalzava faceva carambola su uno sull'altro questo capitava meno in single player ma capitava che sto notando adesso capita comunque molto meno rispetto al vecchio al vecchio pesa vecchio e football 2020 e non è male anche il fatto che comunque adesso vediamo la passa lì allarga c'è i movimenti sono fatti veramente bene che gol ma soprattutto poi quando magari uno intercetta il pallone gli rimbalza addosso appunto li rimbalza sullo stinco il parte via cioè bella come cosa un altro problema che però non abbiamo ancora verificato erano gli arbitri che vi capitava quello che fischiava tutto e quello che invece non fischiava nulla e soprattutto interventi proprio che si vedevano in cui il giocatore veniva ribaltato non fischiavano però fischiavano delle delle inezie si difficoltà un po bassina e devo dire però vediamo la faccia dire che ci sta anche questa le maglie sono e si vedono decisamente non originali perché se non sbaglio quella dell'inter dovrebbe essere a zig zag e niente poi vabbè io ho un'anima sportiva piena rispetto per le squadre quindi insomma è sempre un'arma doppio taglio quella di portare una squadra piuttosto che un'altra su su un video però come dicevo sono mi ritengo una persona sportiva quindi diciamo che non ho nessuna non ho mai fatto guerre tra squadre tra tifoserie quindi insomma ci stiamo guardando un gioco di calcio ci stiamo guardando una partita che adesso però forse per il livello che ho bello anche il fatto che si sia lanciato così per diciamo che per come sono abile io al momento che non è nulla di che però direi che forse una difficoltà un po eccessivamente semplice poi io non farò mai un dirò mai guardate fa schifo fifa fa schifo persa perché ogni gioco ha il suo bello e magari quest'anno se vorrei prendere un gioco di calcio dato che konami mi ha concesso di fare di portare questo gioco potrei pensare di provare fifa ma per farci un confronto perché quello che ha di bello uno magari nell'altro perché un po è viceversa il campionato diciamo quello più a livello gestionale è più bello qui decisamente anche il my club secondo me è bello però il magari il comparto online è più popolato di là è più rifinito su fifa quello sicuramente quindi uno bilancia l'altro cioè insomma si si bilancia una vicenda quindi bisognerà un pochino provarli entrambi e vedremo però ecco mi piace molto il fatto che comunque questo gioco venga reso imprevedibile da tutta una serie di rimpalli comunque di azioni che magari sono più possibili qua secondo me rispetto a fifa però ho visto giocare fifa e l'ho trovato parecchio migliorato anche lì quindi insomma qua stiamo parlando di pes e devo dire che l'impressione già nel 2020 l'edizione prima di questa mi mi è piaciuta veramente tanto e rispetto tanto in più rispetto a quella che avevo provato nel 2018 quando con un amico avevamo detto guarda proviamo dopo tanti anni con l'altro giochiamo a questo ed effettivamente era carino però online era veramente il 2020 invece bello anche l'online comunque c'è da giocare di cosa fare ce ne sono sicuramente insomma inferiore all'altro per quanto riguarda la popolazione di gente che ci gioca e però aveva proprio stupito questa cosa i menu sono migliorati negli ultimi anni perché quelli di pes sono sempre stati abbastanza grezzi come menu non ricchi non da console hanno sempre avuto un qualcosa che mi ricordavano anche titoli come is pro insomma che ai tempi inizi anni 2000 furono come gioco fu una rivelazione is pro perché comunque era stato forse primo gioco a introdurre la la pressione del tiro per del tasto per fare il tiro più o meno forte consentiva la creazione di di azioni molto più ampie soprattutto sulle punizioni sui cross fare corso lungo che era scorto il tiro non era una sorta di tiro dove cliccavi e faceva lui come in fifa 98 il primissimo fifa che ho avuto ho giocato nel 96 99 il 2000 il più bello che ho mai provato degli altri insomma è stato il 2002 dopodiché io ho provato per una vita pes che è stato veramente pes 4 pes 5 insomma scusate che mi è suonata la sveglia e niente insomma ha segnato il milan insomma mi è suonata anche la sveglia proprio nel mentre abbiamo segnato quindi bello il tiro diciamo che è stata una papera del buon samir perché non va bene è giunto il momento di dare spazio poi ditemi se giocare a questo gioco vi vi rilassa anche voi insomma diamo spazio anche a young e togliamo young scusate mettiamo perisic poi di calcio potremmo parlare in modo sportivo finché volete insomma togliamo ngolan e possiamo fare finito tra i cambi non amichevole ma tre cambi va bene io direi che a questo punto acceleriamo il ok acceleriamo il cambio non ho capito molto questa scelta di riprendere pinamonti con un esposito in casa però ci sono tante cose poiché che anche il milan è stato vicino comunque a degli attaccanti davvero davvero bravi per quanto riguarda i giovani intendo eccolo lì vediamo vediamo come hanno fatto pinamonti pinamonti attenzione pinamonti pinamonti entra in aria e questo è è lui mamma mia quello che mi sono reso conto poi nelle mie esperienze da videogiocatore non è tanto un gioco di calcio come questo come l'altro ma football manager mi ha sempre dato delle delle indicazioni molto chiare perché tante volte dei talenti di cui si parlava nel mondo reale poi comprati su football manager erano delle autentiche schiappe ed effettivamente è andata così come un certo brasiliano preso sempre da la lombardia in questo caso che in effetti mi costò molto su più edizioni di football manager ma non sfondo mai nessuna di di queste adesso si riparte è avuto un po di casino qua con ok dai vai luca mamma mia bell' anticipato io poi non so fare dei bling ma da quello che ho visto hanno migliorato anche quelli quindi una volta che poi padroneggerete le mosse speciali insomma diventa molto più divertente fisicità di lukaku fatta davvero bene poi a mondo l'unica cosa di persa appunto che ci sono gli aggiornamenti ogni tot ericsson vedete in questo caso magari nel vecchio persa avrebbero spazzato addosso il difensore il pallone sarebbe finito in porta e invece lo trovo migliorato anche se molto rischioso questo passaggio che ha fatto molto bella anche sono molto belle da vedere anche le partite se scegliete la modalità allenatore nel senso che le guardate e fate i cambi cambiate la tattica potete fare diverse cose il cross è in mezzo pina monti non c'è non riesce a calibrare vediamo rivediamo la perisic è uguale si è fatto un fatto un po male donna roma sembra lui il gigio si poi bisogna fare attenzione comunque anche alla carriera a tenere in forma i giocatori e soprattutto la cosa bella della modalità my club sono il fatto che comunque i giocatori hanno uno stipendio rispetto al foot che non ha non c'è ci sono solo le partite che vengono rinnovate come carte con le carte qua avete il rinnovo dell'allenatore cioè avere un allenatore vi vincola a un modulo preciso quindi non potete cambiarlo quindi avere uno piuttosto che l'altro vi consente che so un 3 5 2 piuttosto che un 4 4 2 così quindi dovete spendere per l'allenatore e soprattutto i giocatori vanno rinnovati quindi quando il contratto scade non vi serve la carta cioè avete anche la carta rinnovo ma in realtà spendete crediti di gioco per rinnovare il contratto volevo farsi nella pinamonte questa partita ma mi sa che non si fa ho voluto fare proprio un derby di milano giusto per mostrarvi un pochino come gioco a questi giochi ok vai lukaku da solo da solo davanti da solo sfonda tutti ok esultanze nulla di che devo dire cioè la cosa che mi è mancata sempre in ogni gioco di calcio è che non ho mai visto nel corso degli anni delle grandissime risultanze che fanno credibili o comunque che fanno saltare ok segnali di chiusura lukaku si porta a casa il pallone dovrebbero darglielo in questo momento credo avendo fatto una tripletta vediamo se infatti stanno andando via col pallone le maglie sono veramente brutte ma sembrano i pigiami però non avendo il diritto vedete chi anche lo stemma ma un'altra cosa bella di PES è che si presta tantissimo le mod ci sono mod da scaricare con tutti i loghi e le maglie aggiornate quindi in pratica molto bella anche questa cosa allora io interrompo qui abbiamo visto PES 2021 il football insomma per la precisione ci sono dei passi avanti c'è a livello dei gameplay più divertente poi in realtà se non avete mai giocato il 2020 questo ve lo consiglio se avete già il 2020 l'avete spolpato in lungo e in largo non costa tanto costa 39 poi vi dico è migliorato come gameplay sì le modalità restano quelle avete le formazioni nuove però se amate il calcio amate questo tipo di gioco considerando anche che del nuovo o dell'altro si sa poco è giocabile solo in una sorta di modalità demo per totore e ve lo consiglierei anche in quel caso lì però se avete già quello vecchio vedete un attimo se ci avete giocato poco se l'avete proprio spolpato e siete stufi qua il gameplay è un pochino migliorato però non è uno stravolgimento quindi dovete valutarlo voi per intanto fatemi sapere qua sotto poi nei commenti cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay alla prossima ragazzi e ciao ciao